proseguendo nella lettura del vangelo secondo matteo e continuando a leggere la sezione del vangelo intitolata gesù a gerusalemme si arriva al brano del vangelo che ha per titolo parabola di due figli che ve ne pare un uomo aveva due figli si rivolse al primo e disse figlio oggi va a lavorare nella vigna ed egli rispose non ne ho voglia ma poi si pentì e vi andò si rivolse al secondo e disse lo stesso ed egli rispose sì signore ma non vi andò chi dei due ha compiuto la volontà del padre risposero il primo e gesù disse loro in verità io vi dico i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di dio giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto voi al contrario avete visto queste cose ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima